Facciamo i complimenti a un'altra neopromossa, perché magari qualcuno si dimentica del campionato straordinario che sta facendo il Pescara che addirittura pensa era stato contestato da qualche tifoso per il pareggio in casa di settimana scorsa contro il Frosinone. Ma i tifosi del Pescara sono tifosi molto caldi, molto esigenti, quindi qualcuno certe volte si allarga un po' perché sogna. Bisogna invece fare i complimenti alla società per come ha strutturato Di Francesco, per come è riuscito ad archiviare una fase abbastanza complicata e per la brillantezza che mi sembra tornato il Pescara quello giusto, soprattutto in trasferta ha vinto delle partite con una personalità incredibile. Oggi come a Piacenza ha giocato... Io mi ricordo che anche nel momento migliore del Novara il Pescara con Maniero ha fatto delle partite importanti anche a Novara. È una squadra che ha un DNA che non improvvisa, che comunque adesso ha trovato la continuità che aveva perso nelle ultime giornate che ha una struttura importante, un portiere importante come Pina in scadenza di contratto, gente esperta come Cascione, come Tognozzi che adesso oggi è partito dalla panchina perché ha avuto qualche problema. E Sanzovine è sempre stato un attaccante importante, aveva perso un po' la continuità e la ritrovata. Sottimo è una rivelazione, Bonanni, noi ci ricordiamo Bonanni di Vicenza e poi Bonanni che ha dovuto fare il triplo salto quasi all'indietro da Palermo alla Serie C e ripartire e ritornare, ma Bonanni il talento l'ha sempre avuto. Però c'è molto di Di Francesco. C'è molto di Di Francesco. Noi quando alla fine della stagione, sia in B che in Prima Divisione, dobbiamo fare i nomi di quei 7-8 allenatori che si sono imposti per quanto sono riusciti a trasmettere e per quello che hanno dato alla squadra, sicuramente in questi 7-8 c'è Di Francesco. Ha fatto un gran lavoro, poi insomma nell'ultimo periodo il Pescara ha avuto tante defezioni a centro campo. Il problema, Valentina, secondo me arriva adesso, come può essere paradossalmente per Mazzari a Napoli con le dovute proporzioni. Il problema è adesso, fermo restando che Di Francesco non ha chiesto di andare via, non vuole parlare col Presidente, ma il problema è che comunque, anche se facessi play-off il Pescara, che è tutto aperto, capire come ripartirà l'anno prossimo. Se rimarrà anche Lucchese, ha freddo. Sì, è una piazza come Pescara, non puoi dire, sai, quest'anno fatti i play-off, l'anno 21 speriamo di rifare i play-off. E no, non puoi dirlo a Pescara, guarda comunque che la cornice è una cornice di gente, io conosco molto bene la gente di Pescara, la gente di Pescara non vuole fermarsi, soprattutto adesso che ha ritrovato il gusto di cose perdute. Alfredo, adesso entriamo? Qui c'è Di Francesco che sta facendo un gran campionato, nel momento...